Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli è il nuovo presidente della commissione d'inchiesta su Bussi. Blasioli è stato eletto con il voto favorevole della maggioranza dei commissari e prende il posto del dimissionario Giovanni Lellini, nel frattempo diventato commissario straordinario per la ricostruzione del cratere sismico del centro Italia. La commissione continuerà il lavoro che si era fermato a causa dell'emergenza Covid-19 con un allungamento delle attività di due mesi, la chiusura dell'organo d'inchiesta slitterà quindi al mese di agosto. Quello che ci caratterizzerà naturalmente è la difesa dell'Abruzzo, è l'unico obiettivo e l'unica bussola che avremo in questa commissione, sapendo che ci sono dei fatti nuovi. Dalla sospensione di questi lavori infatti sono arrivate la sentenza del Consiglio di Stato del 6 aprile che ha dichiarato Edison soggetto inquinatore delle aree 2A e 2B e poi naturalmente dalle notizie che abbiamo avuto dal ministero. Ecco io ripartirei proprio da questa sentenza, un fatto storico, acclarato, il principio del chi inquina paga deve guidarci nei lavori di questa commissione che naturalmente si arricchiranno anche delle audizioni di Edison, di Solvay, forse anche del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ma sicuramente anche del ministero che è un invitato d'onore a questa commissione che non può assolutamente mancare. Il ministero ha già chiarito che i 50 milioni di euro per la bonifica resteranno a bussi ma ha ovviamente chiarito un principio fondamentale cioè che chi inquina deve pagare. Per anni non sapevamo chi fosse il responsabile dell'inquinamento e oggi ho proposto alla maggioranza e a tutti i commissari di redigere un documento comune indirizzato ad Edison per scoraggiarla a fare nuovi e ulteriori ricorsi ma cominciare a prendersi le proprie responsabilità. Rimangono invariati gli altri ruoli all'interno della commissione, il consigliere regionale Daniele Damario di Forza Italia e il vicepresidente e il consigliere Emiliano Di Matteo della Lega alla veste di segretario.